Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo arrivati... Siamo arrivati... Ma va bene. Siamo arrivati al primo di ottobre, quindi... Il microfono si è sballato tantissimo. Comunque, primo ottobre, uscire del mese. Così, non metto più verbi, non metto niente, metto solo paroline così. Allora, vi ricordo prima di tutto ragazzi, che ho fatto un contest per chi fosse appena arrivato su questo video. Sto facendo un contest che finirà il 10 novembre per vincere Fallout 4. Quindi ve lo metterò qui sopra. Però se andate nel canale e cercate contest, vedrete che c'è un contest dove si può vincere Fallout 4. Quindi se non avete ancora partecipato, basta andare sotto al video e seguire le istruzioni. Partiamo subito il primo ottobre con NBA Live 16, che uscirà per PlayStation 4 ed Xbox One. Gioco di basket, diciamo, brutta copia di 2K16. NBA 2K16. Adesso c'è questa rivalità tra i due, ovviamente, perché essendo tutti e due giochi di basket c'è questa rivalità. Ma sinceramente, se dovessi scegliere, non prenderei mai NBA Live 16. Il 2 ottobre esce un gioco molto maschio, perché esce Animal Crossing Happy Home Designer per 3DS. Ma allora, lasciamo stare il fatto che non sia un gioco maschio. È un gioco molto bello, Animal Crossing lo conoscete tutti e qui sarete dei designer Happy Home Design. Cioè, ragazzi, qualcosa di spettacolare che io, che faccio ingegneria, lo compro sicuramente. Mi compro il 3DS e compro anche Animal Crossing. Il 6 ottobre esce Darksiders 2, Definitive Edition per PlayStation 4 ed Xbox One. Il solito porting in HD 1080 a 60fps, Darksiders 2, cioè basta, 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 basta. Sempre il 6 ottobre, Rock Band 4, sempre per PlayStation 4 ed Xbox One. Il 7 ottobre, ecco un'altra remastered, perché esce Uncharted The Nathan Drake Collection. Non so perché mi sono bloccato. Per PlayStation 4 ed è appunto la remastered dei capitoli di Uncharted in 1080p e 60fps. Allora, il 13 ottobre escono due titoli, Zetalos Principle, che era già uscito per PC, scusate, ed è un puzzle game che uscirà per PlayStation 4. E poi esce la Minecraft, esce Minecraft Story Mode, ovvero la modalità storia di Minecraft. prodotto, io non lo sapevo, questo, dalla Telltale, e quindi sarà un titolo a stile Telltale, quindi con diverse scelte, ma che probabilmente porteranno sempre tutte allo stesso finale. E uscirà per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ed Xbox One. Allora, il 16 ottobre, ragazzi, esce un gioco che probabilmente mi farà stare più male nella mia vita. non so se si dice così in italiano. Comunque uscirà Dragon Quest Heroes. Che cos'è Dragon Quest Heroes? È uno spin-off della fantastica serie di Dragon Quest, ragazzi. Uno spin-off assurdo. Io sapete che... questo qui è il mio gioco preferito. E sapete che sto attendendo da una vita un titolo su PlayStation 4 di Dragon Quest, che sia come quello. Anche una remastered, frega un cazzo, ma me la rigiocherei tutta quanta. Cos'è questo Dragon Quest Heroes? È un musu. Per PlayStation 4 e per PlayStation 3, ovvero arrivano un sacco di nemici, botte, sangue, violenza, le-a-le, e arriveranno sempre più nemici, ci sarà più botte, sangue, più violenza, le-a-le. È un po' stile Dynasty Warriors, è un po' stile One Piece, diciamo così, e che non è quello che io volevo. Poi qui, ragazzi, escono JRPG a manetta, perché che mese è? Un mese senza Disgaea 5, Allianz of Vengance, PS4. Strano che questo... ah no, esce anche un Tales of questo mese, incredibile. E poi qui ho bisogno del foglio, perché esce Dungeon Travelers 2, The Royal Library, and the Monster Seal, per PlayStation Vita. Diciamo che anche questo è un JRPG, però, dove il nostro personaggio dovrà, diciamo, completare una sorta di labirinti, per... una sorta di labirinti dove incontrerà mostri, per comunque finire, per esempio, il livello. Esce per 3DS, sempre il 16 ottobre, Dragon Ball Z Extreme Butoden, che è in seguito di un altro titolo di Dragon Ball, dove è il classico titolo di Dragon Ball, trasportato su 3DS, dove ci saranno i soliti scontri con i personaggi, appunto. Sempre il 16 ottobre esce VRC5, per PlayStation 4, Xbox One, 360, PlayStation 3 e Vita e PC. Ecco qua, 20 ottobre, Tales of Zestria, un altro JRPG, che uscirà per PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. E il 22 ottobre... esce Just Dance 2016. Scusate, ragazzi, scusate se non mi sono informato sulle nuove canzoni che ci saranno su Just Dance 2016. Il 23 ottobre continua la stafilata di Assassin's Creed, perché esce Assassin's Creed Syndicate, in una Londra vittoriana, bellissima, ed esce per tutte le console. Anche per astuzzo dell'invicta. Il 23 ottobre esce The Legend of Zelda 3 Force Heroes, che è un sequel spirituale di un titolo uscito per GameCube. Uscirà per 3DS e una differenza che ci sarà dal capitolo precedente è che non si potrà più cooperare in 4 giocatori, ma solamente con 3 giocatori. Sempre il 23 ottobre esce Warhammer, End Times, Vermintire, suppongo si legga. Ed è uno sparatutto in soggettiva che uscirà per PC e PlayStation 4 all'Xbox One, dove dovremmo difendere la cittadina, diciamo, da un'invasione di ratti. Forse il titolo più atteso, il 27 ottobre uscirà Lo Starnuto dal mio naso. Il 27 ottobre uscirà Halo 5 Guardians per Xbox One. I fan di Halo 5 ovviamente non se lo potranno lasciare scappare. Sempre il 27 ottobre esce anche WWE 2K16 per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 e Xbox One. Ultimo titolo per quanto mi riguarda del mese, interessante per Wii U, attenzione, il titolo per Wii U, alla fine del mese proprio così, che ce l'hanno fatto sudare, uscirà Project Zero Maiden of Black Water. è un horror che uscirà per, appunto, Nintendo Wii U. Project Zero è uscito anche per PlayStation 2, se non sbaglio, ed è un horror abbastanza interessante, anche abbastanza intenso, devo dire. Signori! L'ho preso abbastanza, dai. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, se avete bisogno di informazioni ulteriori, lasciate un mi piace e scrivete un commentino qui sotto sui vostri dubbi, su quello che ho sbagliato, sui giochi che mi sono perso. Cerco sempre di migliorarmi, ma purtroppo sì, ti dicono che esce un giorno, altri dicono che esce un altro. Comunque, fa lo stesso, signori. Questi sono i titoli che più o meno siano più interessanti. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!